Ok, allora, il mio talk si chiama Data Driven Business e spero di potervelo spiegare con un caso pratico nel quale sono stata coinvolta. Allora, chi sono? Allora, io mi ispiro, è uno dei miei idoli per cui mi ispiro abbastanza a lui. Lui è, secondo me, io sono appassionata di gialli, è uno dei miei personaggi preferiti perché lui basa le sue indagini sull'analisi dei dati e soprattutto è molto bravo perché ha la capacità di mettere distanza tra lui e i dati. È un sociopatico funzionale, detta proprio fuori dai denti, ed è vero. Io invece sono questa qua, sono una web analyst, mi occupo anche di AdWords, ho appena preso la partnership di Google e sono anche abbastanza fanatica di film, per cui ci sono un sacco di foto di film, per cui mai che vada vi ho dato dei suggerimenti per stasera, anzi per domani perché stasera c'è la festa. Allora, perché questo talk? Allora, io alle conferenze ci vado, ci vado anche parecchio, però vedo soprattutto esempi legati a Booking, Amazon, Airbnb. Ok, io non lavoro con loro, per cui mi piace la loro mentalità, mi ispiro a loro, però i miei clienti non sono loro e di conseguenza volevo portare un caso nel quale sono riuscita ad adottare parte di quello che ho imparato da loro su un cliente che non ha i suoi numeri, non ha la sua mentalità, adesso spero un po' di più e per cui volevo perlomeno portarvi un esempio che spero domani possiate applicare. No, domani no, è domenica, lunedì. Perché? Perché i dati in questo caso sono stati leva di business. In che maniera? Nella maniera che a me piace di più. Cioè, i dati hanno reso visibile l'invisibile. Non so se conoscete questo film, è molto bello perché, spoiler alert, il colpevole c'è ma nessuno lo nota perché è coperto dal rumore. Per cui è davanti a voi, esiste, però non lo vedete. Andiamo a lavorare. Allora, storia del sito internet. La cliente in questo caso si occupa di occhiali da almeno 30 anni, di vendita occhiali in un negozio fisico. E ha scoperto, diciamo così, due nicchie di mercato. Una era gli occhiali premontati di design. La seconda era le lenti a contatto colorate. È un'attività secondaria perché l'aveva proposta il suo titolare, ma il titolare non ha voluto investire su questo sito o non ha creduto in questa nicchia di mercato e lei ha deciso di crearsi questa seconda entrata. Il tracciamento era minimo, aveva un Google Analytics veramente base, e però aveva la percezione che poteva fare skate in Veneto. Sono soldi. Allora, le caratteristiche del progetto erano, il budget era limitato ma costante, per fortuna, proprio perché era un'attività secondaria, lei voleva semplicemente avere un'entrata in più. Le tempistiche, per fortuna, erano lunghe, per cui avevamo, nonostante avessimo poco traffico, avevamo la possibilità di pianificare a lungo termine e per questo vi consiglio un bell'articolo che è stato pubblicato oggi sul Sole 24 Ore riguardo alle aziende, quelle che hanno funzionato meglio in quest'ultimo anno sono state quelle che avevano visione a lungo periodo e investivano molto in ricerca e sviluppo, tra parentesi, l'ho trovato sul mio profilo LinkedIn, se volete il link, e le idee erano poco chiare su quali fossero i problemi, perché lei, avendo il contatto con il cliente diretto, sapeva che poteva fare soldi, ma non aveva idea del perché ne facesse pochi online, fondamentalmente. Allora, le caratteristiche tecniche. Io sono entrata nel progetto quando c'è stata una migrazione o si è deciso di fare una migrazione tra Magento e WordPress. Già lì l'analisi dei dati ci è venuta in aiuto perché lei ha scoperto una nicchia di mercato, cioè ha eliminato una nicchia di mercato che è stata momentaneamente, che sono le lenti a contatto colorate. Vedeva che faceva più soldi con gli occhiali premontati di design e in quel momento abbiamo deciso di sviluppare maggiormente il sito quando c'è stata una migrazione, soprattutto in quel settore lì. Perché abbiamo scelto WordPress? perché è una piattaforma più flessibile, per cui ci permetteva di poter coinvolgere direttamente nel progetto più persone, più addetti ai lavori. Il tema era un tema premium acquistato, però era molto adatto a tutti gli e-commerce in ambito fashion e c'era ovviamente il plug-in WooCommerce. Allora, io ho questa passione e vi faccio vedere questo, che è il film The Founder, non so se l'avete visto, basato su il creatore, il proprietario di McDonald's. No! Porca miseria! Scusate! Spero che vada l'audio. Eh, 30 secondi, non vi rubo troppo. No! Ok, l'audio non funziona. No, vabbè. Ok, allora, problemi della diretta. Praticamente loro che cosa fanno? In questo caso loro non fanno altro che prendere una cosa che funziona, perché vendere hamburger in America funziona, non fanno altro che ottimizzarla. Il succo della storia di questi 30 secondi è che loro avevano un menù di 26 portate e alla fine ne prendono solo tre. Perché? Perché vedono, grazie all'analisi dei dati, che loro vendono di più solo quei tre lì. Per cui dicono, perché concentrarci e disperdere l'energia su tutti quanti i 26 prodotti? Andiamo a vendere solo quei tre abbinati assieme, perché fatta l'ità, erano bibite, patatine e hamburger. Ecco. E la cosa bella di questi 30 secondi, secondo me, è che più ottimizzi, più hai voglia di ottimizzare, perché ogni volta vedi delle opportunità e entri in quella mentalità lì. La fase iniziale è stata la scelta degli strumenti. Hotger, Google Analytics, vabbè, l'abbiamo riconformato, assieme al Tag Manager, a Google Optimize. Quanti di voi conoscono Hotger? Per gli altri, eventualmente è un programma molto interessante, perché fa le mappe di calore ed è molto adatto nei test di usabilità. Poi vi faccio vedere come l'ho utilizzato. Google Optimize è un nuovo prodotto di Google che serve a fare gli A-B test. Allora, la fase iniziale è stata anche porsi delle domande su come settare gli strumenti e la prima domanda è stata quali sono gli obiettivi del business e di conseguenza settarli in funzione degli obiettivi dell'attività. Allora, questo per me ha un tracciamento minimo per quanto riguarda un e-commerce, che è il tracciamento del motore di ricerca interno del sito internet, per cui andare a vedere le parole chiave che utilizzano all'interno del nostro sito, filtro del traffico interno, buttare via per me tutto il rumore, che sappiamo essere rumore, configurazione dell'e-commerce e settaggio del funnel di conversione obbligatorio. Per l'obbligatorio, quello che devono fare per forza per comprare il nostro oggetto. Quanti di voi usano almeno due di questi settaggi? Marano. Bocciata. Vabbè, dopo ne parliamo. Settaggio accurato di hot jar. Allora, prima l'ho citato soprattutto per le heat map. Ok, belle, figata, tutto quanto. Però è anche molto bello per le videoregistrazioni, per il settaggio di funnel di conversione e per il monitoraggio dei campi dei form. Cioè, ti fa vedere quali sono quei campi dove la gente eventualmente non te li compila, dove c'è il più alto tasso d'abbandono. Per cui ti permette di capire come riprogettare eventualmente il form. Ovviamente se ci sono dei campi che sono obbligatori e anche se c'è un alto tasso d'abbandono, non ci trippo per gatti. Però in tutti gli altri casi si può buttare via senza problemi. Ecco. Andiamo avanti. Allora, la prima scoperta. Allora, questo è quello che abbiamo scoperto tracciando il motore di ricerca interno. Che cosa succedeva? Allora, che cercavano... Noi avevamo anche una situazione... Noi, ovviamente, questo sito è un rivenditore, lui non produce niente. Gli occhiali premontati avevano... Ci sono soprattutto due marche che vengono vendute di più. Una è aptica e l'altra è flexi. Sono caratteristiche perché una ha un design, ha una lente tonda e una quadrata. E quell'altra invece senza stanghette. Stile paperonde e paperoni, praticamente. E sono questi qui, i flexi. Eravamo anche in una situazione, soprattutto la cliente era in una situazione dove stava valutando o meno di rinnovare il contratto di distribuzione per quanto riguarda i flexi. In questo caso abbiamo visto che gli utenti lo cercavano e lo cercavano con il nome del brand. Per cui questo ci ha portato due modifiche effettive sul sito. E questo, allora, quando è indicato qua significa che lo stanno cercando dalla home page. Per cui conoscevano il sito e volevano quegli occhiali lì. O perlomeno li cercavano. Questa era la home page iniziale. Era completamente dedicata ad aptica proprio perché era in una fase dove pensava, la cliente in particolare pensava che fosse l'unico prodotto che potesse essere venduto e che era il motore fondamentalmente del sito internet. Questo è come l'abbiamo riprogettata. Questi sono gli occhiali, quelli senza stanghette. Fondamentalmente. E abbiamo anche deciso di mettere a parte perché abbiamo visto che non solo li cercavano come brand ma li cercavano anche proprio come linea perché, vabbè, questa marca qua ha anche degli occhiali normali non senza, non con queste lenti tonde quadrate. Poi ci ha portato una seconda modifica. Abbiamo creato un filtro non per, pensavamo, gradazione o per caratteristica perché ci sono anche gli occhiali premontati per chi usa tanto il computer e cose di questo tipo ma abbiamo creato un filtro basato sul brand. Allora, questo è un film che vi consiglio molto perché si chiama il caso di Thomas Crawford. Questo è bello perché? Perché vince chi trova la frattura tra i due. E in questo caso noi dovevamo trovare quello che stonava tra quello che stava succedendo all'interno del nostro sito internet. In questo caso come l'abbiamo scoperto? Allora, io ho preso il mese di febbraio. Perché? Per andare a vedere il tracciamento, l'andamento delle conversioni. Innanzitutto perché il mese di febbraio ha 28 giorni per cui mi dà 4 settimane piene. Poi è il mese dove tendenzialmente ci sono meno festività per cui mi fa vedere un andamento che può farmi vedere un pattern tipico del comportamento dell'utente quando acquista qualcosa. Però, come vedete, non c'era un pattern. Cioè, facevano un po' quello che volevano. Questo mi ha permesso di farmi una seconda domanda. Perché non riesco a riconoscere un pattern? Cioè, per me l'analisi dei dati è una specie di melodia. Deve essere qualcosa che non deve stonare quando non c'è motivo di stonare. Allora, sono andata a prendermi. I tempi di due giornate dove c'erano stati dei comportamenti molto diversi o quando c'erano stati pochissimi utenti o quando ce ne erano stati molti e vedevo che i tempi avevano una discrepanza molto alta, quasi il doppio praticamente. Per cui dico, perché? È lo stesso sito, vendo lo stesso prodotto, ha le stesse caratteristiche, non ho fatto niente, non c'è motivo per cui gli utenti passino il doppio del loro tempo sul mio sito internet. Cosa sta succedendo? Seconda fase di drill down. Allora, non so voi, ma io vedere le registrazioni di Hotjar, sinceramente, mi sembra di essere un vecchietto che guarda i lavori pubblici. Cioè, non è proprio la mia passione preferita. Posso giovane per vedere queste robe qua. Però, questo mi ha permesso di dire, ok, i due giorni di prima sono quelli di febbraio e io sono andata a prendermi solo ed esclusivamente le videoregistrazioni di quei due giorni perché ho detto, ok, qua ci sono dei comportamenti che sono anomali, sono molto diversi, vado a prendermi solo quelle lì. Per cui ho fatto la vecchietta per poco. Questo mi ha permesso di ottimizzare il mio tempo e anche quello delle persone che collaborano a questo sito internet. Per cui non ho perso il mio tempo, anche se non è perdita di tempo, a guardare tutto il resto. E che cosa mi ha fatto notare? Nonostante il tema fosse fatto bene, fosse perfetto per un ambito e-commerce, fashion, aveva una frattura nel mio caso. Cioè, quando una certa gradazione di occhiali non era presente, perché non era in magazzino, lui me la levava dal menu a tendina. Per cui per me i miei utenti dicevano, cavolo, io il giorno prima c'era e adesso non c'è più. Cosa sta succedendo? Fondamentalmente. E questo li portava in confusione. La modifica, e lì è perché vi dico andate alle conferenze, l'abbiamo copiata, tra virgolette, da Zalando. Zalando fa la stessa identica cosa. Ti fa vedere tutto il menu a tendina, però ti dice, ok, quando è disponibile me lo metti nero scuro, quando non è disponibile me lo metti grigio, chiaro? Però mi fai capire che quel prodotto tu tendenzialmente ce l'hai. Allora, se tendenzialmente ce l'hai, io magari torno il giorno dopo, ma non mi mandi in confusione come persona, come utente che sta visitando il tuo sito e prima o poi quegli occhiali li vuole comprare. E questa per noi è stata la frattura. In questo caso, invece, c'è stata un'altra situazione. In questo caso noi abbiamo detto, ok, abbiamo ragionato con la cliente dicendo, ok, chiunque porti degli occhiali, io li porto da quando avevo quattro anni, per cui praticamente sono cresciuta con loro, di solito uno compra gli occhiali una volta all'anno, oppure quando vada all'uculista, per cui una volta ogni due anni forse, oppure quando li rompi, il che è un caso eccezionale. Per cui non serve creare un... crea un account, è un acquisto compulsivo, perché è più o meno di 50 euro, è un acquisto che magari fai per un'evenienza. Secondo noi creare un account non ha senso. E questa qua era una decisione basata sulla pancia. Come ha fatto Neo? Neo ha preso la pillola semplicemente perché aveva una sensazione. Noi, volendo analizzare i dati anche per un altro motivo, siamo andati a vedere il database degli acquisti. Cosa è successo? Abbiamo visto che c'erano alcuni clienti che compravano gli stessi occhiali, assolutamente identici, stessa gradazione, per cui probabilmente non erano andati dall'oculista, però li compravano o uguali identici, oppure cambiavano il colore. Qual è stata la nostra ipotesi? E lì c'è venuta un po' in aiuto la cliente. O li perdono, o li rompono, o semplicemente prima hanno usato quella forma, cioè li hanno presi neri, e poi hanno usato anche con il colore. Per cui li hanno presi gialli o rossi o un'altra cosa ancora. Per cui noi volevamo fare una decisione che era basata sulle nostre sensazioni, sulla nostra percezione dell'uso degli occhiali. In realtà questo tipo di occhiali, io parlo semplicemente di quello che conosco, per cui io parlo di questi occhiali, c'è un approccio molto più disinvolto. Magari, che ne so, li lasciano in ufficio, li lasciano in macchina, ed è più facile che si rompano. Noi queste cose non le avevamo considerate. Che cosa ci ha portato a fare? Allora, questo era il check-out iniziale, dove avevamo messo in maniera poco convinta il crea-account all'inizio. Il tema c'era, abbiamo detto, vabbè, intanto lo lasciamo lì. Però stavamo valutando se levarlo. Adesso è diventato questo. Della serie, se hai bisogno di ricomprarlo, perché li perdi, perché succede quello che succede, noi ti diamo la possibilità di ricomprarli in dieci secondi, senza andare a fare tutta la struma. Ok. Questo qua è Catch Me If You Can. Perché? Perché noi abbiamo, all'inizio, come vi dicevo, c'era poco budget, c'è ancora poco budget, abbiamo detto, ok, facciamo la pubblicità su Facebook, costa di meno, è un acquisto compulsivo, è un acquisto più frivolo, per cui andiamo lì. Ok. Il problema qua, non il problema, la situazione cosa è successo? E' successo che noi le conversioni venivano, la maggior parte venivano da Google. Ma come? Facciamo la pubblicità su Facebook e questi vanno su Google. Cioè, li vogliamo acchiappare da una parte e questi vanno da quell'altra. Cosa sta succedendo? La nostra ipotesi è stata, ok, probabilmente, questi ci vengono a conoscere attraverso Facebook, il brand del sito, il brand dell'occhiale, si ricordano qualcosa, la pubblicità li attira, però decidono di incominciare il processo d'acquisto su Google e sono decisi a comprare, perché qua ci sono poche indecisioni. Che cosa abbiamo fatto? Questa è stata la nostra ipotesi, abbiamo attivato le compagnie Google Shopping, perché questo ci ha permesso di dire, ok, noi sappiamo che in qualche modo ti acchiappiamo su Facebook, ti facciamo conoscere anche tutto il resto dei nostri occhiali, tutto il resto dei nostri prodotti, perché all'inizio compravano soprattutto quelli aptica, in questo caso, anche attraverso Google Shopping. La conseguenza qual è stata? Aumento generale delle conversioni, ma soprattutto aumento del paniere dei prodotti acquistati, perché questi tendenzialmente, prima compravano una sola tipologia di occhiali, adesso siamo riusciti anche a spostare un po' i loro acquisti, hanno incominciato a comprare anche gli altri, che prima magari neanche prendevano in considerazione. Allora, non sei un vero nerd se non citi Star Wars e Guida Galattica per otto stoppisti, e io lì se dovevo cascare, in qualche modo. Allora, cosa mi piacerebbe che voi incominciasse a fare da lunedì? No, scusate, prima. Prima le conclusioni, è stato l'aumento generale delle vendite del sito, una raccolta dei dati più corretta, cioè, mi raccomando, non comparate mele con pere, fa sempre parte della frutta, ma sono due cose un po' diverse, per cui abbiate una mentalità di comparare cose che hanno senso di essere comparate, mi raccomando, e cercate soprattutto di evitare il rumore, il rumore è quello dei soliti sospetti, non andate a confondere le cose. Archivio degli esperimenti utili, allora, in una situazione di poco budget, è fondamentale avere un archivio di esperimenti, cioè, noi abbiamo provato delle cose che non hanno funzionato nel nostro caso, però sappiamo che non hanno funzionato, sappiamo anche forse perché non hanno funzionato, e sappiamo soprattutto l'ambiente che avevamo costruito attorno, per cui, nel caso di un redesign più spinto, noi sappiamo quello che non dobbiamo fare, che è già tanto, soprattutto quando hai pochi soldi, e devi portare a casa dei risultati, magari, in tempi rapidi, per cui noi abbiamo un archivio degli esperimenti, fatti con anche i risultati, e con i settaggi fatti, miglior conoscenza dei nostri clienti, abbiamo capito questi come si comportano rispetto al nostro prodotto, come lo utilizzano, sono più rilassati, meno rilassati, li spaccano più facilmente, poi la cosa bella, è che, c'è stata una piattaforma, abbiamo creato in questa maniera, una piattaforma comune di dialogo e confronto, allora la cosa bellissima, dei dati, è che diventano il capo spiatorio, perché, fondamentalmente, tutti possono dire, possono avere delle ipotesi, tutti possono tirar fuori un esperimento, se questo esperimento va male, non è il tuo capo che ti dice, sei uno sfigato, non hai capito un cazzo, e per cui, metti, cioè, crei una specie di ambiente, del terrore, dove nessuno può dire la sua opinione, tutti la possono dire, si fa un esperimento, si prova, si testa, ok, non è andato, va bene, non è successo niente, non è il tuo capo che ti dice che hai torto, o non è il tuo collega che ti dice che hai torto, semplicemente è andato così, sono i dati che ti hanno detto che hai torto, va bene, ci sta, per cui, quando si ha la capacità di esternalizzare la responsabilità, non è male, in ufficio, per cui, via. cosa mi piacerebbe che portassi a casa questo TOEIC? Allora, settare bene gli strumenti, in funzione degli obiettivi del vostro sito, piacerebbe anche, sinceramente, che portassi a casa un metodo scientifico, che fondamentalmente, ne parlavamo con Piero ieri sera, è quello del Galileo, osservazione, ipotesi, si fa un esperimento, si traccia, si vede qual è l'output, e se non combacia con quello che avevate ipotizzato, si ricomincia, non è successo niente. E un approccio evolutivo, il vostro sito internet, o qualsiasi vostra presenza digitale, è qualcosa che deve cambiare, assolutamente. Non è una cosa che fatta una volta, sarà così in eterno, cambia, cambia il prodotto, se siete un rivenditore, cambia il vostro sito, cambiano le persone che ci entrano nel vostro sito, per cui, abbiate un approccio evolutivo. Grazie, il vostro è finito. Sono un video.